E' un derby, vinto il derby? Fortunatamente sì, non ero mai riuscito a vincere contro la Regina, ma siamo riusciti a portare a casa i tre punti che sono fondamentali per questo finale. Meritati tre punti? Sì, guardando la partita abbiamo avuto delle occasioni chiare rispetto all'opera, diciamo che risultate più giusti se non è così. Tanta corsa da parte dei cremi? Diciamo che è una delle mie qualità e cerco di metterla sempre a disposizione. Mi spieghi perché, generosissimo, in questo momento sei terzino, due secondi dopo fai il trequartista all'esterno. Perché sbagli sempre l'ultimo passaggio? L'utilità, stanchezza, che cosa ti manca? Anche il mister mi ha detto, spesso, a me sono reso conto anch'io che sbaglio l'ultimo passaggio. E' una cosa che devo migliorare. Anzi oggi forse tutti i passaggi li ho fatti quasi giusti. A proposito di passaggio, Giannatas ha messo il parola in mezzo, poi il difensore ti ha nascosto. Non abbiamo capito come questa valla è filtrata per Jefferson, ci racconti un po'. Beh, se non sbaglio ho deviato il cross di Giannatas. Prima che uscisse fuori l'ho messo in mezzo, c'era Jefferson, praticamente è stato là, appoggiato. Quindi hai fatto un assist? Diciamo così. Senti, la squadra ha dato l'impressione di conquistare bene il centrocampo una volta che vi siete messi a tre in attacco con te che sei scalato sulla linea rimediana centralmente. Beh, il mister durante la partita mi ha spostato diverse volte in base anche al risultato. Subito dopo il gol mi ha rimesso di nuovo al centrocampo. Inizialmente mi ha spostato avanti prima del gol e poi per difenderci giustamente ci ha rimesso di nuovo al tre al centrocampo quando vi trovi il giusto. Senti, vuoi mai i zoppichi? Eh, non so, si letta il ginocchio, speriamo insieme una, penso sia una botta. Una botta, bene. Il latino è nella parte sinistra della classifica. Che significa? Significa che abbiamo fatto abbastanza bene fino ad ora, ma non basta. Quindi cercare di fare più punti possibile, poi finiamo non se ne riparremo. Ok. Va bene. Va bene? Va bene. Grazie.